Francesca, presentiamo questa tua nuova proposta su Facebook che riguarda il mondo della cultura. Ho scelto Facebook perché offre la possibilità di dialogare, confrontarsi, essere seguiti da un pubblico un pochino più ampio, ma probabilmente ci organizzeremo in modo sicuramente più professionale, creando una nostra rivista online, dove non solo presenteremo i nostri fotoromanzi virtuali, ma faremo cultura in modo più ampio e completo. Ci tengo a precisare che Virtual Romance presenterà anche dei romanzi storici che hanno fatto la storia della letteratura italiana ed internazionale, alcuni dei quali vedranno un finale diverso ed altri un proseguo inaspettato. Perché anche i classici? Ma perché Virtual Romance non vuole essere solo un fotoromanzo virtuale, ma un impegno letterario costruttivo che va oltre al semplice fotoromanzo. Partiremo nella prossima settimana con la prima di 15 puntate che presenteremo nel gruppo Virtual Romance alle ore 18.30, tutte le sere, sabato e domenica comprese. Sono tanti già gli iscritti che hanno voglia di interpretare alcuni capitoli e soprattutto dobbiamo dire c'è un pubblico interessante. Sì, la presentazione avverrà nel gruppo Facebook che si chiama appunto Virtual Romance. Gli iscritti sono già tantissimi entusiasti e curiosi. In tanti si sono anche proposti per partecipare come personaggi del prossimo romanzo, perché continueremo su questa strada, naturalmente perfezionandoci, perché purtroppo dovendo rimanere a casa abbiamo potuto realizzare delle foto più perfette, ma ognuno, ogni attore, ogni protagonista di questa grande avventura letteraria diciamo che si è arrangiato da sola a casa facendosi degli scatti che potessero comunque in un certo modo servire per questo progetto. certamente ci miglioreremo e ci perfezioneremo più in là. Ho scelto Facebook perché offre la possibilità di dialogare, confrontarsi ed essere seguito da un pubblico un pochino più ampio. Poi in questo periodo particolare di pandemia che purtroppo siamo costretti a rimanere a casa per il nostro bene, quindi vediamo ancora tutti a rimanere a casa e quindi molta gente trascorre le giornate su Facebook, sui social. quindi perché non entrare anche noi con queste pagine e stare in compagnia raccontandoci e leggendo un qualcosa di carino.